La Sampdoria rappresenta la mia gioventù. Io a Marassi ho consumato tutte le mie domeniche possibili e immaginabili, l'ho vissuta al seguito della Sampdoria. Ho avuto la grande fortuna poi di giocarci, quindi per me già si è realizzato un sogno e mi auguro che tanti ragazzi che vivono questo sogno possono un giorno realizzarlo.